Un cordiale saluto a tutti e benvenuti in questo speciale video che parla della Pinocchio sincera della strategia di trading settimanale. Qui siamo sul grafico del dollaro australiano contro il dollaro americano. L'ordine che avevamo suggerito settimana scorsa è entrato al mercato al prezzo di 0.75887. Rimangono invariati stop loss e take profit. Lo ricordiamo stop loss a 0.77588 e il target a 0.74186. Ovviamente tutti gli estremi che trovate in questa stessa grafica sottolineata in rosso e in arancio e ovviamente in giallo si evidenzia il dollaro australiano contro il dollaro americano. Questa è la strategia che aveva avuto una fertilità settimana scorsa e quindi su questo specifico cambio vi avevamo suggerito l'operazione che vedete in grafica. Per quanto riguarda invece questa settimana o meglio sul finire di questa settimana non avevamo evidenziato particolari occasioni fertili che riguardavano la strategia della Pinocchio sincera pertanto non vi abbiamo suggerito altri trade in questo momento. Rimane quindi l'operazione a mercato che vedete in grafica. Vedremo se sarà un'operazione vincente come l'ultima suggerita oppure se il prezzo stornerà verso lo stop loss. Questo ovviamente lo vedremo, lo valuteremo da qui alle prossime settimane o i prossimi giorni a seconda della volatilità dello stesso cambio. Per quanto riguarda quindi la Pinocchio sincera vi ribadiamo l'operazione che in questo momento è a mercato del dollaro australiano contro il dollaro americano. È un ordine che è entrato al ribasso al prezzo di 0.75887, rimane invariato lo stop loss a 0.77588 e il target a 0.74186. un grazie di cuore a tutti voi, un abbraccio e ovviamente a risentirci al prossimo video.